www.fema.it Ma non hai di vitelli! Due nodini di vitello! Quella è un leg, Nicolas! Quattro nodini di vitello! Prendi questi due nodini in fila, presa! Grazie, ragazzo, grazie! Otto cladesse a un unico tavolo! Che cosa gli hai dato, Peter? Cosa saranno mai due nodini di vitello? Non falliremo mica! Soldi! Ecco cosa sono, sono soldi! Due salate di pollo! Due salate di pollo! Sabotaggio! È un sabotaggio che tu mi fai! Cosa vuoi che faccia? Eh? Che diventi lo zimbello di tutti! Sono tre anni che aspetto! Tre! Più veloce! Più veloce! Più veloce! C'è barangolo in sala da pranzo! C'è barangolo in sala da pranzo! Giù vanno ma? Poi vanno! Sono什麼? E' le vendi! E' le vendi! E' le vendi! Cosa va, ride! Cosa va, ride! È là! Poi! E' il vendi! Grazie.